Shaila Gatta e John Natangerlo non nascondono più il loro amore, ecco la foto su social Shaila Gatta, velina di Strescia la notizia, posta sui social network le foto della vacanza post natalizia. Accanto a lui il ballerino John Natangerlo che come lei ha partecipato ad Amici. Shaila Gatta e John Natangerlo fidanzati, foto del bacio. Ti amo, è la didascalia che accompagna la foto postata dalla velina di Strescia. Accanto a lui il ballerino. Tra i due la passione evidente visto il bacio sulle labbra. Chi sono Shaila Gatta e John Natangerlo. Shaila Gatta ha 22 anni, è nata ad Aversa, ma è cresciuta a Napoli. Ha frequentato al liceo linguistico e studia danza da quando aveva 10 anni quest'estate è stata a Los Angeles per migliorarsi. . È stata concorrente di Amici 14 e nel corpo di ballo di Ciao Darwin e di tale e quale show. . Le piace realizzare creme di bellezza fatte in casa, gioielli artigianali e ricamare, passione che le ha trasmesso la madre esalta. . Ama gli animali e ha un coniglio ariete di nome Sony. . Il suo fidanzato è John Natangerlo, ex concorrente come lei del talent show di Maria De Filippi. . . Quando l'ho visto la prima volta ero fidanzata. . Poi ci è capitato di incontrarci di nuovo e io ero ormai single. . . Non ci siamo più lasciati. . Lui mi coccola, mi fa sentire donna, non mi era mai capitata una cosa del genere prima, disse lei al settimanale Nuovo. . . Lui, che recentemente ha danzato anche per Emma Marrone, per quanto riguarda il gossip, ha avuto in passato un flirt con un'altra ballerina di amici, Giulia Pauselli, ex di Stefano De Martino e oggi impegnata con Marcello Sacchetta. . Shaila gatta in vacanza mentre striscia La notizia è in onda, come mai?. . Shaila ha postato diverse foto in vacanza da Parigi o Napoli durante il periodo natalizio. . E striscia? In questi giorni le puntate proposte sono state registrate con largo anticipo. . Da lunedì 8 gennaio torneranno a essere confezionate pochi minuti prima della messa in onda. .